Picchiato e rapinato per vendetta è un vero e proprio ride punitivo, quello che ha portato i carabinieri di Torino ad arrestare tre diciannovenni a denunciare una diciassettenne per rapina aggravata in concorso. I quattro si erano introdotti in casa di un giovane in un'abitazione di San Salvario su richiesta della ex fidanzatina anche lei denunciata. Gli avevano puntato una forbice alla gola picchiandolo e facendosi consegnare alcuni indumenti e oggetti presenti in casa. Una complessa indagine condotta anche monitorando i profili social delle persone coinvolte ha permesso ai militari dell'arma di identificare i quattro. Nelle loro abitazioni sono stati trovati indumenti e oggetti che corrispondono a quelli rubati.